In questa relazione dirò che grazie ad un lavoro attento durato un paio di mesi, noi abbiamo riequilibrato i conti del Comune di Napoli seguendo le indicazioni della Corte dei Conti. Noi abbiamo contestato nel merito alcune formulazioni della Corte dei Conti e in parte le stesse sezioni riunite ci hanno dato ragione presentando alla Corte Costituzionale ponendo il tema principale su come si contegge una determinata partita, adesso molto tecniche quindi non va la pena di annoiare chi ci sta ascoltando in questo momento. Per il resto noi abbiamo fatto un'operazione in base alla quale aumentiamo il gettito dei tributi superando anche una serie di lentezze burocratiche che in questi anni si erano affermate. Interveniamo sugli immobili nel senso che mettiamo esclusivamente gli immobili per i quali siamo certi di operazioni o di vendita o comunque di interesse per gli stessi in questo modo con queste due operazioni maggiori entrate e una sottrazione degli immobili in un qualche modo non ancora certi per quanto riguarda la vendita il bilancio del Comune di Napoli è un bilancio che diventa solido e forte. Rimane aperto un problema politico che è del Consiglio Comunale di Napoli ma che è principalmente del Governo ovvero le norme sui Comuni in predisesto sono norme faraginose, complesse, non funzionano. Occorre mettere ordine e soprattutto occorre decidere che sui Comuni si investe. Basta tagli perché se il Comune di Napoli in sette anni ha avuto un miliardo e passa di euro in meno di trasferimenti questo miliardo e passa lo hanno pagato i cittadini in termini di servizi, in termini di tariffe. Così e per tutta Italia oltre 400 i Comuni in predisesto non funziona, occorre voltare pagina.